La 28esima edizione è un'edizione che conferma ormai la stabilità che è stata creata alle fiere di settembre, che si conferma una seconda fiera di importanza a livello regionale. Per cui negli anni è stata caratterizzata dalla qualità, da eventi particolari e il format che vince non si cambia. Per cui continuiamo anche per la 28esima edizione con 200 banchi, non allarghiamo il numero perché non deve diventare una fiera di qualità. Per cui noi manteniamo i 200 banchi, i 44 stand, le opere dell'ingegno e in più sarà contornata da tutti gli eventi musicali che le hanno caratterizzate in questi anni. Quest'anno noi avremo dai balli popolari con la frullana ai tragic che allieteranno una serata alla rotonda vicino al Bar Italia e poi dopo ci sarà una street band che percorrerà le fiere. Per cui ce n'è un po' per tutti. Ci sarà ovviamente il solito allestimento floreale che non è soltanto quello ma è veramente un'esposizione di piante ornamentali all'ingresso delle fiere. Per cui daremo via al settembre umbertidese con le tradizionali fiere di settembre e garantiamo come tutti gli anni la viabilità, il posto auto per tutte le persone che verranno, che sappiamo già che sono tante, viste le telefonate che arrivano in comune per sapere l'apertura che è, ripeto, il 7. Anche quest'anno ringraziamo il pittore Renzini che ci ha dato la possibilità di realizzare il manifesto delle fiere di settembre anche quest'anno con una delle sue opere. Questo manifesto poi va in giro un po' per tutto il mondo perché anche gli umbertidesi all'estero aspettano proprio l'inizio delle fiere di settembre per richiedere il manifesto che poi verrà loro inviato. Per cui aspettiamo tutti i venerdì per iniziare le festività settembrine di umbertide.